Lei ce l'ha Dazon? No. Non ce l'ha? No, no, no. No, Dazon non ce l'ha. Per le partite come sta facendo? Alla radio, classico. Buongiorno. Andarmi alla televisione, io non ci vado più al campo perché ho perso la fiducia. Ma lei ce l'ha Dazon? Sì, sì. Lo vedo così sul telegiornale e poi mi faccio vedere tutto quello che c'è. Ma lei ce l'ha Dazon? No, non ce l'ha. Quindi quest'anno non può seguire il Crotone? No. Solo in casa? Sì. No, no, io non ce l'ho Dazon. Ce l'ha Dazon? No. Io ero con Sky e adesso ho passato con Dazon. Ha fatto questo cambio? Sì, ho fatto questo cambio perché è più interessante. Allo stadio? Allo stadio sto andando. Lei ce l'ha Dazon? Sì o no? No, non ce l'ho io. Né Sanzò. No, Dazon. Ah, Dazon come si chiama? Non ce l'ho. Sanzò nel negozio? No, niente. Io vado solo allo stadio. Sono abbonato e mi vedo tutte le partite in casa. Lei l'anno scorso le vedeva su Sky? Sì, le vedevo su Sky, sì. Ce l'ha Dazon? No, no, non ce l'ho Dazon. No, non ce l'ho. Come fa? Ma per sentito dire dalla radio? Su Sky. C'aveva Sky? Sì. E invece con Dazon come fa? Non lo so, non ce l'ho, non lo vedo. Sa come si fa? No. Lei? Sì, la stessa cosa del signore. Aveva Sky? Avevo Sky. E ora con Dazon come fa? Eh non lo vedo, non lo vedo. Ma lei ce l'ha Dazon? Sì. Cosa guarda? Il crotone. Lei ce l'ha Dazon? Sì. Cosa guarda? Tutto. Ma lei ce l'ha Dazon? No. Niente. Minimo quattro minuti indietro. Non tanto bene, ancora la squadra non è molto compatta. Era meglio quando c'era Sky. E ho comprato un po' di verdura per fare un'ansalatina, poi un po' di cime di rap. Che se devo fare? Queste sono solo. Perché non ce l'abbiamo? Abbiamo solo Sky. Lei ha Dazon? Sì. Vi piace? Abbastanza. Lei ce l'ha Dazon? Dazon? E cos'è Dazon? Eh non sto giocando molto bene. Ma lei ce l'ha Dazon? Che cosa? Dazon? No. Sky? No. Il televisore? Sì. L'abbonamento? Sì. Lei ce l'ha Dazon? Che? Lei ce l'ha Dazon? Sì. E come si trova? Ma lei ce l'ha Dazon? Sì. Come si trova? Eh male, diciamo male perché non vedo tutte le partite, non vedo le partite che voglio vedere e soprattutto la serie A non è tanto, la qualità non è tanto buona. Lei ce l'ha Dazon? No. Ma lei va allo stadio? Ogni tanto sì. Mi portano, no che vado io, mi portano. Vi piace vedere le partite del Crotone? Molto, molto. E forza? Io sono tifoso della nostra squadra del Crotone. Mister, un po' di impegno in più, che se vuoi si può fare qualcosa in più. E per finire, come si dice? Forza Crotone! Forza Crotone! Sempre Forza Crotone! Fino alla fine! Sempre e ovunque Forza Crotone! Forza Crotone! Forza Crotone! E Forza Crotone! Forza Crotone! Lei ce l'ha Dazon? Sì. L'unico lezza! Forza Crotone! E per finire, come si dice? Sempre Forza Crotone! E per finire, come si dice? Forza Crotone! Un applauso! E per finire, come si dice? Forza Crotone! Forza Crotone!